salve ragazze salve ragazzi benvenuti bentrovati siete nel mio nuovo interattivo nel mio canale io sono Zaire sui tarocchi e questo è l'interattivo inerente al mese dove io faccio tutti i segni zodiacali per vedere cosa accadrà ad ogni segno segno per segno in amore nel mese di dicembre ecco siamo giunti al mese al segno dei pesci quindi cosa accadrà al segno dei pesci in amore nel mese di dicembre quindi andremo a fare questo interattivo con gli angeli del cuore con i tarocchi viceversa e con le risposte degli angeli quindi con gli angeli del cuore andremo a vedere la vostra situazione generale con i tarocchi viceversa faremo con il gioco dell'amore la sesa e con gli angeli le risposte degli angeli chiederemo un consiglio finale allora il segno dei pesci un segno d'acqua creativo artistico giocoso paziente di controllo abbiamo così ho scritto queste lettere che mi è venuto di scrivere è appunto la c la v e la d ovviamente non è assolutamente inerente a tutti è una cosa così che può essere in più allora andiamo a vedere quindi iniziamo e andiamo a vedere con gli angeli del cuore che energia governa il mese di dicembre il segno dei pesci o anche l'ascendente allora ogni segno guardate sia il vostro segno d'appartenenza e se conoscete anche l'ascendente andate a vedere l'ascendente e se conoscete anche cosa se avete per esempio sapete cosa avete nel venere o nella luna se avete quale segno avete magari sapete che il segno del pesce andate a vedere anche questo insomma capito quindi dovete più vedete meglio è ma comunque io ritengo che il segno e l'ascendente sono quelle un po' più importanti quindi andate a vedere anche l'ascendente io ho postato tutti e 12 segni quindi se conoscete l'ascendente vedete anche quello allora andiamo a vedere riconciliazione pesciolini qua c'è una riconciliazione a fondo mazzo però state attenti eh perché insomma qui ci sono c'è la riconciliazione una persona del passato sta tornando nella tua vita però fai attenzione alle bandiere rosse perché ci sono dei segnali che ci mettono ti mettono in guardia quindi queste due carte mi dicono che è pur vero che probabilmente tornerà una persona della vostra vita in questo mese di dicembre però di fare anche attenzione perché magari come come posso dire magari non sarà del tutto sincera però adesso noi andiamo a vedere meglio no quindi andiamo a vedere con che con il metodo dell'amore dove andremo proprio a così ad analizzare presente passato e futuro di questa situazione quindi andiamo un po' a vedere appunto che cosa vi accadrà a voi pesciolini ecco qua questa la voglio prendere è caduta e la voglio prendere quindi che cosa vi accadrà nel mese di dicembre a voi pesciolini in amore cosa vi accadrà mese di dicembre a voi pesciolini in amore vediamo cosa vi accadrà vediamo cosa vi accadrà andiamo a pescare una carta e poi andremo a vedere anche il fondo mazzo ecco qua allora ragazze qua mi viene fuori come vedete l'imperatrice guardate quanto è bella l'imperatrice è bella bionda quindi qua andiamo al fondo mazzo che cosa abbiamo a fondo mazzo abbiamo la curiosità la curiosità del fante di coppe allora che cosa vi accadrà vedete qua dopo un allontanamento un qualcosa che appunto c'è stato nella vostra vita qua c'è stato un eccesso quindi dopo un periodo dove vi siete ristabiliti vi siete allontanati dove avete dato meno eccessi c'è stato più un autocontrollo della situazione perché vedete voi siete una donna creativa una donna che volete delle crescite interiori volete un'unione d'amore volete un matrimonio dico un matrimonio per dire ma siete una donna che potete dare tantissimo e sapete dare tantissimo sapete una guaritrice una temperanza e ragazze temperanza e imperatrice due carte meravigliose che appunto nel presente vi dicono che voi avete tutto il potere la stabilità la costanza la pazienza la temperanza di andare avanti nella vostra vita con molta 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 con molto successo molto consapevolezza di voi stessi e questa persona invece viene da voi vedete come un fante qua ci parla di amore notizie però per curiosità ok quindi questo un po vedete un po fate attenzione alle bandiere rosse quindi facciamo attenzione a queste bandiere rosse facciamo attenzione perché si insomma viene con curiosità viene con curiosità allora ragazze qua io siccome con i tarocchi viceversa la situazione un po particolare anche se non posso prendere una carta che esce così perché queste sono viceversa si devono interpretare in un certo modo e quindi bisogna non è che escono dieci carte non posso più a dieci carte andiamo a vedere nel passato che cosa è successo nel passato tra voi e questa persona vediamo un po andiamo a prendere qua una carta vediamo cosa è successo nel passato nel passato c'è stato un asso di bastoni e poi c'è stato anche però un 5 di spade quindi qua c'è stato un inizio molto bello molto forte ecco qua e c'è stato nel passato nel passato diciamo quello recente no perché non si parla di un passato di due anni fa nel passato recente qua c'è stato un nuovo punto di vista è come se dopo una situazione brutta si è voluto dare un'altra occasione a questa situazione quindi asso di bastoni un inizio infatti c'è la nuova nascita c'è la carta del giudizio vedete qua abbiamo la carta del giudizio che ci dice vedete sotto abbiamo i dieci di coppe e il due di coppe che ve lo dica fa quindi qua diciamo che nel passato recente c'è stato proprio questo la voglia di ricominciare con il giudizio se è voluto se qualcuno c'è questa persona probabilmente è ritornata da voi per una nuova opportunità però voi magari pensavate che questo era tornato tutto bello e ritorniamo perché voi siete questa no proprio è invece questa persona nasconde un po' qualcosa che non va bene perché vedete il 5 5 di spade per giunta che dalle spalle è una persona che dopo aver ottenuto ciò che vuole va via quindi per questo fate attenzione alle bandiere rosse ok quindi è tornato di tornare se hai preso la sua opportunità con l'asso di bastoni vi ricordo che l'asso di bastoni è sì un inizio ma un inizio passionale non è un asso di coppe parliamo di sentimenti parliamo di passione ok quindi questa riconciliazione è come se questa persona è venuto ha fatto quello che voleva con voi è ritornato però poi probabilmente vi ha voltato le spalle a livello energetico e quindi voi adesso nel presente avete bisogno di appunto l'avete allontanato per guarire e per trovare in voi nuovamente quella grande potere che siete di una imperatrice andiamo a vedere adesso che appunto cosa succederà in questo mese quindi adesso andremo proprio al futuro e alla sintesi quindi cosa succederà per voi pesciolini nel mese di dicembre in amore con questa persona vediamo cosa succederà e qua c'è la papessa una papessa che porta le spalle però e abbiamo anche un 9 di coppe a fondo mazzo abbiamo un abbiamo qui andiamo questo è vero la regina questa è la regina qui abbiamo la regina di spade sotto abbiamo ancora il 3 di spade vabbè capirai allora abbiamo una regina di spade che si libera di qualcosa allora qui che cosa succederà nel futuro ragazze e ragazzi nel futuro c'è a dicembre succederà che qua sicuramente noi abbiamo ancora tanto desiderio di questa persona però abbiamo anche tanta paura infatti qua vedete con questa imperatrice scusatemi con questa papessa che vi dà le spalle vedete questa papessa che guarda avanti ma dalle spalle e qua ci sono queste due coppe queste due chiave un po come se questa questa papessa guarda avanti ha lasciato dietro questa situazione perché vedete lei vuole un rapporto ideale vedete vuole un qualcosa guardate lei vuole un qualcosa di ideale di bello di puro e siccome questa persona non ve lo può dare quindi lei si sta sta riflettendo è vigile come se ha paura di cose che insomma ha rimosso ma rimangono comunque nella sua coscienza e quindi ha paura e si vuole liberare che farà farà un taglio netto con le emozioni quindi qua che cosa avverrà 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 che ovviamente questa potesse essere voi o potrebbe essere l'altra persona è attenzione perché eh comunque stiamo parlando di voi verso qualcun altro quindi eh qua eh quello che succederà a dicembre succederà che probabilmente questa persona vorrà nuovamente riaffacciarsi nella vostra vita però voi 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 perché la riconciliazione c'è no però voi vi rendete conto che questa persona non è sincera come vuol far sembrare essere e quindi voi volete qualcosa in più quindi questo qualcosa in più sembrerebbe che non viene fuori e quindi qua al momento darete un taglio netto con le vostre emozioni e quindi direte qua non c'è trippa per gatti vediamo un consiglio persone disponibili cerca un segno quindi qua il consiglio vi dicono le carte dicono voi comunque siate disponibili a magari che ne so a questo nuovo punto di vista a questa nuova creatività insomma a questa situazione che sembrerebbe questa riconciliazione insomma questa persona sta tornando nella vostra vita nuovamente però cercate un segno vedete sotto viene prende una nuova se non si comunica in modo chiaro prendete una nuova direzione quindi cercate questo segno vedete effettivamente cosa vi offre questa persona e se non siete convinti lasciate perdere va bene dunque questo era ciò che presumibilmente accadrà a tutti i pesciolini o avendo pure ascendente in pesci nel mese di dicembre in amore con la persona di su di loro interesse io ovviamente vi aspetto tutti nei commenti fatemi sapere se c'è qualche riscontro fatemi sapere se vi siete un po riconosciuti nella stesa in ogni caso mettete un like iscrivetevi al canale perché no attivate la campanella così tutte le mie novità vi saranno aggiornate e in anteprima grazie di essere stati con me un bacione a tutti dalla vostra zaira ciao